Sì, devo dire che mi hanno colpito moltissime storie che mi sono state rappresentate, gente che mi ha scritto, gente che mi ha guardato per strada. Penso che è giunto a 60 anni e uno non possa rimanere tra quattro anni senza pensione, senza stipendio. Trovo che sia una cosa impossibile. Non sono neanche ancora i numeri precisi adesso, non si hanno gli elenchi precisi, poi non è una cosa in cui noi possiamo decidere, però possiamo dar voce a decine di miliardi di persone in Italia e centinaia, forse miliardi in Liguria che vivono in dama personale pressoché abbandonati. Adesso raccogliamo le segnalazioni, ci dedichiamo alla nostra giunta, quella che facciamo tutte le settimane e poi apriamo con l'Inps un confronto per capire intanto quali sono quelli che magari non lo sanno ma sono a posto, perché un po' ci sono che stanno andando a posto, 65 più 55 più 12 mila di cui si parlano, che poi bisogna che abbiano un volto oltre che un numero. E poi cerchiamo di capire chi rimane fuori e proponiamo anche alle forze politiche in questa campagna elettorale di pronunciarci su cosa vogliono fare quando alcuni di esse andano a governare questo paese.